No, nessuna scissione. Allora, attenzione, io propongo di costituire dei gruppi autonomi, questo è il primo passo, del resto parleremo successivamente. Ma c'è una possibilità di una scatola, di un contenitore, di un nuovo partito che guardia i popolari europei? No, non stiamo parlando di partito, però stiamo parlando di gruppi parlamentari, un passo per volta.